Allora, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un video che sarà breve, intanto vi auguro una buona notte perché è lunedì notte, sono appena tornato da Rimini a proposito, domani vi annuncio fuori rosa in tour un nuovo video della speciale rubrica e dunque, volevo dire due cose appunto sulla Francia che è la prima finalista, batte il Belgio in maniera molto cinica il Belgio che nel secondo tempo, dopo lo 0-0 del primo tempo aveva iniziato molto bene il secondo ma alla prima occasione Antity la mette dentro e il Belgio ci prova tantissime volte l'inserimento di Mertens aiuta a creare più cross ma alla fine decide quel gol di Antity e dunque la Francia è in finale del mondiale per la terza volta della sua storia dopo il 98 che ha vinto, dopo il 2006 che ha perso adesso vedremo come finirà questo mondiale nel 2018 sono contento soprattutto per Blaise Matuidi perché se lo merita, è un ragazzo eccezionale e adesso vediamo cosa succederà domani tra Corazio e Inghilterra sperando che vinca la Croazia in modo da avere almeno un giocatore della Juve campione del mondo chiudo qua questo video, vi lascio spazio al video su CR7 ciao!